ragazzi adesso vi parlo di questi due prodotti in india allora in particolare abbiamo questo di qua che è un deodorante roll on al magnesio a 48 ore di protezione ed è senza sali di alluminio senza alcol etilico mantiene comunque la pelle fresca e asciutta infatti io già ho odorato a un profumo fantastico perché non potete sentire anche voi poi qui invece abbiamo un detergente viso scrub solido quindi invece della solita bottiglietta abbiamo questo di qua solido come potete vedere è una saponetta al carbone attivo quindi va eliminare tutte le impurità senza comunque fare sapone e nel niente davvero fantastica